ciao ricky stiamo per scattare una foto speciale serve a vedere cosa c'è che non ti fa stare bene non avere paura saremo velocissimi va bene fatto sei stato bravissimo abbiamo capito cosa c'è che non va ciao tu devi essere ricky ma dimmi sai perché sei qui? eh sì bene sta tranquillo qui sappiamo bene cosa fare daremo il via a una missione di cui tu sarai il protagonista noi saremo il tuo equipaggio e per questo nei prossimi giorni dovremo vederci un po più spesso va bene sei pronto? sì professore siamo pronti posticipiamo le vacanze ricky partiremo appena finito va bene? va bene ecco la squadra che ti accompagnerà durante la missione mamma papà guardate quanti pesci che mondo fantastico ciao io sono tarta tu devi essere ricky eh sì ciao tarta non avere paura io ti stavo aspettando ricky sai perché sei qui? sì credo ascolta bene nel profondo del mare proprio qui dove siamo noi è custodito un segreto per far stare meglio i bimbi siamo tutti qui per la tua missione e per affrontarla avrai a disposizione un super sottomarino all'interno il segreto una macchina super tecnologica sei pronto vieni te la faccio vedere ecco ricky tu sarai il capitano del nostro sottomarino perciò sarai tu a decidere quando la macchina potrà cominciare a muoversi per farti stare meglio lei ruoterà intorno a te senza mai toccarti il tuo compito stare fermo per qualche istante è tutto qui semplice no? io non ti lascerò mai solo ti guarderò sempre potrai sentire la mia voce e chiamarmi dentro in qualsiasi momento va bene tarta mi fido di te bene tutto è pronto siediti pure e allaccia le cinture e ricorda l'unico compito è stare fermi io ti guarderà sempre promesso ok tarta sono pronto partiamo ottimo lavoro la missione è compiuta ricky sveglia sai il professore ha detto che ora stai bene e possiamo partire per le nostre vacanze fantastico ciao 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 ciao